Mark Levinson, un nome che significa hi-fi, soprattutto quando si parla di amplificazione. I prodotti di questa casa hanno infatti rappresentato veri e propri masterpieces per quanto riguarda l'ascolto musicale domestico di fascia alta. Dell'animo originale di questo brand è rimasto ben poco, ma ancora oggi, pensando all'alluminio anodizzato e nero, viene in mente Mark Levinson. Oggi abbiamo un rampollo di questa casa, un amplificatore integrato in grado di venire incontro alle necessità dell'ascolto musicale moderno. Sto parlando del Mark Levinson numero 5805. Benvenuti su Odio Filando. Il fascino di un brand statunitense storico, che possiamo definire sinonimo di alta fedeltà. I tempi d'oro dell'alta fedeltà non torneranno più, purtroppo, e quindi anche nell'Eigend i brand hanno dovuto fare fronte alle esigenze dell'ascolto musicale moderno. Ecco perché quindi il 90%, possiamo dire, degli amplificatori integrati o dei preamplificatori, se parliamo di amplificazione a componenti separati, integrano uno stadio DAC. Il discorso vale anche, ovviamente, per i prodotti di fascia alta. Questo rende infatti molto più agevole e immediata la fruizione della musica liquida. Che si tratta del principale supporto, o meglio sarebbe dire, del non supporto più usato per la musica oggi. Intendiamoci, per me non si tratta assolutamente di un male, tutt'altro. Bastano infatti pochi euro per portarsi a casa una sorgente digitale per musica liquida di riferimento, che ci consenta quindi di godere dei benefici di questo tipo di ascolto nel modo più qualitativo possibile. Il perché ve lo spiego in un video, per cui vi lascio un link qui sopra. In soldoni, se un DAC possiede un ingresso USB, la qualità del nostro ascolto dipende esclusivamente, ok, dalla qualità del file e della registrazione che stiamo ascoltando, e da tutto ciò che si trova a valle del cavo USB. La sorgente più democratica del mondo, non trovate? Il Mark Levinson numero 5805, che abbiamo il piacere di avere in prova oggi, non si sottrae a questa regola e integra quindi un DAC con ingresso USB audio. Avremo tempo e modo di approfondire l'argomento, ma prima bisogna tirarlo fuori dalla scatola. È un bel bestione, ma in ogni caso voglio farlo insieme a voi. Mark Levinson 5805, amplificatore integrato, integrato sì, ma sicuramente non piccolo. Guardate che bestione! Imballo pesantissimo, già solo portarlo fin qui mi è costata mezza ernia. Vediamo se l'altra metà mi uscirà tirandolo fuori. Doppio imballo per il 5805, sempre contento io quando c'è un doppio imballo. Vediamo cosa troviamo all'interno. Troviamo subito il ringraziamento di Nicholas Clark per aver acquistato uno dei suoi prodotti. Grazie, spero di dirtelo io dopo averlo ascoltato. Libretto di istruzioni. Vediamo. con batterie che saranno del telecomando. E il manuale di istruzioni sia per il 5805, questo prodotto, che per il 5802. Manuale ovviamente in inglese. Le safety instruction, sempre molto importanti, queste multilingue come avevamo già visto per il lettore cd. Certificato di garanzia, anche questo molto importante se non la cosa più importante. Andiamo a dare uno sguardo anche al telecomando. Molto carino, molto carino. dedicato all'amplificatore. Quando avevamo visto il lettore cd, super audio cd e streamer, avevamo visto un telecomando con lo stesso layout, lo stesso design, ma con pulsanti dedicati a quel dispositivo. così com'è per questo cavo di alimentazione generosissimo con spina americana. Spero che ci sia, anzi, ovviamente ci sarà anche la spina asciuco. Eccola qui. Andiamo a rimuovere la copertura superiore che racchiude e protegge il nostro 5805, autografata Mark Levinson. Eccolo qua il bestione. No, non ce la faccio a tirarlo fuori rischiando brutte figure. Buio! Facciamo bene a temere brutte figure perché era un ciccione, un ciccione incredibile, molto pesante e adesso dentro l'imballo non c'è più e non c'è più niente se non la protezione inferiore. E' davvero pesante e pesantissimo. Lo apriamo. Tanto pesante. Quanto bellino! Non vedo l'ora di ascoltarlo. Siamo ora pronti a dare uno sguardo più da vicino a questo bellissimo amplificatore con DAC integrato, con particolare interesse a comandi, interfaccia e funzioni. Eccolo qui, il bellissimo amplificatore integrato Mark Levinson numero 5805. Molto pulito ed elegante il design Total Black. Dà un'idea il pannello frontale soprattutto di grande solidità e di grande cura nella qualità dei materiali scelti. A impreziosire il frontale questi due piccoli inserti simmetrici rispetto all'apparecchio di alluminio spazzolato che lo rendono un po' più dinamico, un po' più brillante dal punto di vista dell'estetica. Pochi ed essenziali comandi sul pannello frontale. Abbiamo ad esempio la manopola tramite la quale riusciamo a selezionare gli ingressi. Dall'altra parte, in modo del tutto simmetrico, la manopola di regolazione del volume. E al centro, oltre al piccolo display alfanumerico che vedremo acceso dopo, abbiamo il tasto di standby per portarlo e toglierlo da questo stato, il jack delle cuffie con un jack da 6,3 mm per sfruttare l'uscita cuffie in pura classe A, e il tastino menu che ci serve per accedere appunto al menu di configurazione delle principali funzioni di questo amplificatore integrato. Accedendo alle funzioni di menu, i due manopoloni, quelle del volume di selezione degli ingressi, acquistano anche delle funzioni di navigazione all'interno del menu. Veniamo adesso al pannello posteriore, al lato B di questo imponente e pesantissimo amplificatore integrato. Si può subito notare la perfetta simmetria tra canale destro e canale sinistro, sia per quanto riguarda l'uscita di potenza che per quanto riguarda gli ingressi analogici. Questo ha testimonianza dell'architettura dual mono che è stata realizzata all'interno. Connettori verso i nostri diffusori, i nostri amati diffusori, molto curati, molto ben fatti, che consentono l'alloggiamento di cavo spelato, forcella, banana o qualunque terminazione voi vogliate. Sono molto belli alla vista e danno anche un'idea di solidità. Veniamo adesso alla sezione di segnale, in cui spiccano subito le due uscite di linea a volume regolabile, quindi le uscite del pre, per connettere uno stadio finale esterno. Per quanto riguarda gli ingressi, abbiamo un ingresso bilanciato e due ingressi single-ended, per consentire la connessione di sorgenti esterne di qualsiasi tipo fondamentalmente. Abbiamo anche al centro, e questo è molto interessante, l'ingresso del prefono. E cosa ancora più interessante, abbiamo la possibilità di collegare sia giradischi con testina MM, sia giradischi con testina MC. Quindi la doppia coppia di ingressi RCA è immancabile, quando dobbiamo collegare un giradischi è indispensabile, il connettore per la connessione del cavetto di terra. Come potete vedere, accanto a ciascuna coppia sinistra e destra di ingressi, possiamo vedere dei deep switch. Questi servono per configurare, per quanto riguarda l'ingresso MC, l'impedenza di ingresso dello stadio Fono, mentre per l'ingresso MM consentono di configurare la capacità di ingresso. Questo per far sì di adattare l'ingresso Fono a praticamente tutte le testine disponibili sul mercato. I deep switch da 1 a 4 sono relativi all'ingresso MC, mentre il 5 e il 6 sono relativi all'ingresso MM. Troverete sul manuale utente una tabella molto chiara con tutte le configurazioni possibili. Starà a voi quindi selezionare sulla base di quella tabella la configurazione di deep switch più adatta alla vostra testina. Al centro abbiamo la parte relativa agli ingressi digitali, quindi agli ingressi dello stadio DAC integrato. Completissimo perché abbiamo sia un ingresso USB audio per sorgenti come il vostro PC che abbiano un'uscita di tipo USB, due ingressi ottici to Slink e un ingresso quassiale digitale. Molto importante, e il logo ben chiaro sul pannello posteriore lo evidenzia, la compatibilità col protocollo iRES di Tidal, ossia il protocollo MQA. Per finire, sulla parte inferiore, oltre al connettore di alimentazione IEC per connettere ovviamente all'alimentazione elettrica il vostro amplificatore, abbiamo anche ingressi di servizio. Un ingresso USB di tipo A che è utilizzabile solo per motivi di servizio come ad esempio l'upgrade del firmware. Non è un ingresso a cui ad esempio potrete collegare una chiavetta USB per riprodurre la musica al suo interno, non lo è. Connettore Ethernet RJ45 per collegarlo alla vostra rete domestica e permetterne la configurazione attraverso un browser da utilizzare sul vostro PC o tablet. Un ingresso di servizio infrared a cui collegare appunto un sensore infrarosso e poter utilizzare questo per pilotare e interfacciare il telecomando. Connettore RS232, vaschetta 9 poli di servizio per pilotare il dispositivo tramite questa interfaccia. Per finire, ingresso e uscita trigger per connettere questo amplificatore a dispositivi compatibili come ad esempio il lettore CD numero 5101 e collegare e accendere e spegnere i dispositivi, entrambi i dispositivi, con lo stesso telecomando. Per finire, alcune marchiature di sicurezza, logo Mark Levinson e serial number numero 2083. Vale a dire che questo è il 2083 esemplare prodotto. Ho collegato il 5805 all'alimentazione e lui ovviamente è entrato in stato di stand by segnalato dal lampeggio del led corrispondente. Per portarlo in modalità operativa o si agisce sul telecomando o sul pulsantino evidenziato dal led in questo modo. Ecco che il display si accende e lui entra dopo alcuni ticchetti nella modalità pienamente operativa. Possiamo vedere che in modalità normale di riproduzione vengono visualizzati l'ingresso selezionato in questo momento e il volume. Regolabile tramite la manopola di destra, mentre l'ingresso è selezionabile con quello di sinistra. In questo momento abbiamo l'ingresso bilanciato 1 ed è possibile selezionare tutti gli ingressi che abbiamo visto prima. Quindi bluetooth che non abbiamo visto, comunque ha un'interfaccia bluetooth aptX HD questo dispositivo. L'ingresso USB audio. L'ingresso Toslink, in questo caso il secondo ingresso Toslink. Il primo ingresso Toslink. L'ingresso quassiale. Ingresso Fono MM. Tramite il menu è possibile switchare tra ingresso Fono MM e ingresso Fono MC, quindi moving coil. Ingresso di linea 2, ingresso di linea 1. Sto scorrendo il menu all'indietro, come potete vedere, potete andare in entrambe le direzioni. Per tornare al primo selezionato che è l'ingresso bilanciato. Chiaramente le operazioni, le stesse operazioni, potrete eseguirlo con il bellissimo, secondo me, e solido telecomando fornito in dotazione. Tramite il telecomando possiamo anche accedere, oltre che con il tasto menu, al menu di configurazione del dispositivo. Ci sono diverse voci che riguardano l'ingresso, il setup degli ingressi, il setup del volume, come ad esempio la possibilità di impostare un volume definito all'avvio e un volume massimo oltre al quale non volete andare. Setup legati alla potenza, all'alimentazione di questo dispositivo, più che altro per quanto riguarda il risparmio energetico. Infatti ci sono ben tre diverse modalità di standby a risparmio energetico crescente che potrete selezionare in base alle vostre esigenze e alle funzioni che volete in questo stato di standby mantenere operative nel momento in cui vogliate utilizzarlo. Ad esempio ci sono tre diverse modalità di standby, green, power save e normal. Quella green consente ad esempio di disalimentare tutto e lasciare operativi solo gli ingressi trigger che abbiamo visto sul posteriore e il tastino di standby per entrare in modalità operativa. Quella intermedia power save consente invece di lasciare operativa l'interfaccia ad esempio del telecomando così che ogni ingresso del dispositivo possa risvegliarlo. Quella diciamo meno economica, quella normal ma diciamo più audiofila consente di mantenere caldi i circuiti relativi alle uscite audio. Non risparmierete tanta energia ma troverete l'amplificatore già pronto alla massima delle sue potenzialità nel momento in cui vorrete ascoltare la vostra musica. Abbiamo poi una modalità di setup del display che consente ad esempio di spegnerlo durante il normale utilizzo oppure di lasciarlo acceso come è configurato in questo momento. E alcune impostazioni avanzate tra cui la possibilità, adesso andiamo a vederlo, di leggere l'indirizzo IP. Questo è l'indirizzo IP, sono collegato tramite cavo RJ45 a un mio switch. Perché è importante? Perché serve come indirizzo da scrivere nel browser per accedere al menu di configurazione tra virgolette online di questo amplificatore. Ve lo faccio vedere, basta inserire l'indirizzo IP nella barra di ricerca del nostro browser, in questo caso sto usando Safari del mio iPad. Ed ecco che verrà visualizzato un telecomando remoto del nostro amplificatore. Tornando al menu di configurazione vedete che attraverso i comandi di questa interfaccia browser possiamo ad esempio regolare il volume. Possiamo anche ad esempio pigiando il tasto menu entrare proprio nel menu di configurazione che abbiamo visto prima e operare da remoto attraverso le configurazioni. Non entro nel dettaglio, nel merito delle varie possibilità che vi offre di configurazione questo amplificatore. È tutto correttamente spiegato sul manuale. Online potrete trovare anche la versione in italiano del manuale anche se non è contenuta e stampata all'interno dell'imballo come abbiamo visto. E niente, divertitevi tra le varie possibilità che avrete, tra cui i filtri possibili impostabili sul DAC per la riproduzione della musica PCM, i setup dei vari ingressi a cui potrete attribuire un nome particolare, le possibilità di configurazione relative al risparmio energetico che vi ho fatto vedere prima e così via. Bell' oggetto e, come abbiamo visto, pratico dal punto di vista dell'utilizzo. Bene, dopo aver analizzato le sue caratteristiche visibili, siamo pronti per dare uno sguardo all'interno approfondendo ciò che non si vede, i suoi numeri. Partiamo dalla sezione DAC che condivide il chip Precision Link 2 che già avevamo visto integrato all'interno del lettore CD numero 5101. Lo abbiamo recensito poco tempo fa e vi lascio per questo un link qui sopra. È in grado di processare segnali PCM fino a 32 bit 384 kHz e anche segnali DSD fino al DSD 11,2 MHz. Compatibile, cosa molto importante, con lo standard MQA di Tidal. Distorsione armonica totale pari allo 0,0025% quando si trova a processare segnali 24 bit 192 kHz. In queste condizioni il rapporto segnale rumore è superiore ai 100 dB. Passiamo adesso alla sezione Fono, molto interessante in realtà. Come abbiamo già visto è compatibile e configurabile di conseguenza per lavorare con testine sia MM che MC. L'ingresso predisposto per lavorare con il magneto mobile garantisce un rapporto segnali rumore pesato di tipo A superiore a 91 dB. Quello per la bobina mobile invece è superiore ai 71 dB. In entrambi i casi la distorsione armonica è inferiore allo 0,01%. Veniamo adesso infine alla sezione di amplificazione di potenza in grado di erogare 125 Watt continuativi su un carico da 8 Ohm. Questa potenza ovviamente è erogabile su tutto lo spettro udibile. Nel range di frequenza che va dai 2 ai 20 kHz e magari poterci arrivare ancora con queste orecchie, la distorsione totale massima garantita è minore di meno 0,2 dB. Rapporto segnali rumore superiore ai 100 dB su tutto lo spettro udibile. Alla massima potenza la distorsione armonica totale è inferiore allo 0,035%. Questo alla frequenza di 1 kHz. Sempre tirandogli il collo la distorsione armonica totale a 20 kHz sale allo 0,18%. Bene bene, a questo punto direi che è ora di ascoltarlo di nuovo. Di nuovo perché lo avevamo già ascoltato nella prova d'ascolto per cui vi lascio un link qui sopra. In quell'occasione ero ovviamente collegato alle bimbe di casa, le nostre Sonus Faber Olimpica 3, ed era pilotato dal suo compagno di viaggio ideale nelle intenzioni di Mark Levinson, vale a dire il lettore CD e super audio CD numero 5101. In questo modo, in quella configurazione, avevamo testato le capacità della sezione pre-finale del 5805, sfruttando come ingresso quello analogico bilanciato proveniente dal lettore. Ma avevamo quindi tralasciato le potenzialità del DAC integrato all'interno dell'N5805. Ma a inizio video avevamo parlato di quanto fosse democratica la musica liquida quando si tratta di sorgenti. E il nostro DAC, il DAC integrato all'interno dell'N5805, ha un ingresso USB. Vale quindi la pena riascoltarlo per provare la mia tesi. Quindi ho collegato all'ingresso USB del 5805 un mini PC su cui è installato da file. Poco più di 100€ per un mini PC fanless. Mezz'oretta del nostro tempo per installare da file, per avere una sorgente di riferimento per quanto riguarda la musica liquida. Se siete interessati ad approfondire l'argomento, vi lascio qui sopra un link al video in cui vi guido nell'installazione di da file passo passo. Se avete un minimo di conoscenze informatiche, vale la pena di andarla a vedere e approfondire l'argomento. Bene, a questo punto siamo pronti a mettere alla prova il Mark Levinson numero 5805 in tutti i suoi componenti per quanto riguarda una catena digitale, DAC, preamplificazione e finale. Non prima però delle mie solite raccomandazioni per quanto riguarda queste prove d'ascolto. Prendetele sempre con le pinze perché l'unico modo per capire se un prodotto ci piace o meno è ascoltarlo dal vivo con le nostre orecchie. E possibilmente con gli altri componenti della nostra catena stereo. La registrazione è fatta con il nostro registratore portatile Zoom H4n Pro in formato WAV 24 bit 96 kHz. Dal momento che pubblicare prove d'ascolto è diventato praticamente impossibile su YouTube per motivi di copyright vi lascio qui sotto il link al canale Telegram di Audiofilando. Lì potrete trovare la registrazione completa di 4 brani di generi diversi. Qui in questo video solo un piccolo piccolissimo estratto di uno di essi. Quindi non perdiamo altro tempo e partiamo con la prova. Ok, direi che a questo punto siamo pronti a parlare delle mie personali impressioni su questo amplificatore integrato collegato alle nostre Olimpica 3. Che pezzo! Davvero una signora amplificazione a mio modo di vedere. Permettetemi una piccola parentesi prima di entrare nel dettaglio. Voglio fare un po' di filosofia oggi. Il mondo hi-fi è molto strano. L'ascolto e le sensazioni che ciascuno di noi prova di fronte ad un setup e il giudizio che può dare a un componente di quel setup dipende da una moltitudine di fattori. Alcuni di questi fattori sono oggettivi, come l'ambiente d'ascolto e gli altri elementi della catena. Altri invece sono puramente soggettivi, come i nostri gusti personali e anche, perché no, i condizionamenti che tutti noi riceviamo, me compreso. Uno dei condizionamenti di cui, non mi nascondo, sono vittima pure io, è quello tanto per restare in tema beh, Mark Levinson ormai è andato da un pezzo, ormai altro che americano, Mark Levinson è coreano. Cerchiamo di superare questo pregiudizio quando si parla di hi-fi. Non è la proprietà chi caccia i soldi a fare la bontà di un prodotto, ma la bontà del progetto con cui questo prodotto è fatto. Nel caso specifico, poi, tanto per ritornare all'affermazione di prima, questi prodotti sono ancora progettati e realizzati negli Stati Uniti. Detto questo, invito tutti coloro che sono scettici sul fatto che questo Mark Levinson non abbia più niente a che fare con il Mark Levinson, inteso come personaggio, come uomo che ha fondato l'azienda, ad andare a ascoltare questo prodotto. Questo N5805 potrebbe lasciarvi favorevolmente impressionati, come ha fatto con me. Non si tratta di una regola generale, eh, intendiamoci. Quello che voglio dirvi è semplicemente non scartiamo a priori un prodotto sulla base di congetture che non siano derivanti dalla vera prova del prodotto stesso, sulla sua messa su strada. Allo stesso tempo è vero anche il contrario. Non basta il blasone di un prodotto a fare la bontà di quel prodotto. Anche i migliori sbagliano. Ma torniamo a noi e torniamo a questo Mark Levinson numero 5805. Impressionante l'impatto sulle basse frequenze. Davvero poderoso, ma al tempo stesso controllato e preciso. In pratica non si scompone mai. Buonissimo il dettaglio e sicuramente non inferiore a quello di altri prodotti che ho ascoltato in questa fascia di prezzo. Non mi ha fatto sognare, ma sicuramente è ben degno di portare il nome Mark Levinson. Precisa e sicura la ricostruzione della scena sonora, anche quando i bassi bussano da sotto. Come detto, non si scompone. Ottima la sezione DAC. Devo dirvi la verità, non ho percepito differenze rispetto alla sezione DAC del lettore CD. Magari sono io che non sono riuscita a percepirla, ma non l'ho percepita qui in quest'ambiente. A questo punto sentiamo cosa abbia da dire Elena su questo prodotto, sicuramente interessante dal punto di vista estetico. Allora, secondo prodotto Mark Levinson che entra in casa audiofilando, in accoppiata con quello che abbiamo già visto essere il lettore CD. Chiaramente, come spesso accade nelle produzioni di elettroniche Hi-Fi, il design del prodotto è molto simile per tutti i vari componenti. Questo anche perché nel caso in cui sceglieste lo stesso marchio per il vostro impianto stereo, per più componenti, ovviamente garantisce una fluidità di design simile, e quindi anche un aspetto molto più bello dal punto di vista estetico a colpo d'occhio quando entriamo nella nostra sala audio. Quindi, su questo prodotto, diciamo che la base è quella che abbiamo già visto per il lettore CD, quindi questa piastra anteriore bellissima, in alluminio satinato nero nelle parti laterali, con questo taglio inclinato sia sopra che sotto, che incornicia questa parte centrale lucida in vetro, che viene definita da questi due settori in alluminio satinato, color proprio alluminio. A differenza del lettore CD, in questo caso ovviamente abbiamo due bellissime manopole, sono veramente molto belle, hanno una sezione molto sinuosa, e devo dire che anche al tatto la sensazione è molto bella, perché questo alluminio satinato dà proprio questo effetto un po' sabbioso sotto i nostri polpastrelli, molto molto interessante. Abbiamo già parlato della qualità dei materiali, della scocca, della cura con cui Mark Levinson ha confezionato questi prodotti, molto belli anche i connettori, molto ordinato anche la parte posteriore di questi prodotti, mi piacciono moltissimo, sempre il solito appunto, che vi ho già anticipato nel lettore CD, non è proprio nelle mie corde il fatto che lo schermo abbia i led rossi, e anche i tastini abbiano questo led di contorno rosso. Avrei preferito un colore un po' più elegante, come ad esempio spesso siamo abituati a vedere, ad esempio dei bianchi, anche dei bianchi caldi, non troppo freddi, non troppo optical, che comunque conferiscono secondo me più eleganza al componente elettronico. Ma questo aspetto del led rosso glielo perdono volentieri, perché è un amplificatore che all'orecchio mi è piaciuto davvero molto, e quindi siccome anche l'occhio vuole la sua parte, ma quando parliamo di hi-fi, ovviamente quello che conta di più è il nostro orecchio, devo dire che questa piccola nota che a me non piace tantissimo del rosso, gliela perdono tranquillamente. Lo prenderei. Anche per questo oggetto, il telecomando, ne abbiamo già parlato molto bello, a me piace veramente tanto, devo dire che hanno sposato i led rossi con alcuni dettagli del telecomando, il che denota il fatto che comunque hanno avuto un occhio di riguardo anche per questo aspetto. Il telecomando è molto bello, anche molto pesantino, e ha anche questa parte più lucida dove sono posizionati i tasti, la dimensione e anche l'ergonomicità dell'oggetto è veramente interessante, mi piace. Ok, veniamo per concludere alla sua possibile collocazione all'interno del mercato hi-fi. Chi potrebbe essere il possibile acquirente di un prodotto come questo? Beh, un'amplificazione moderna di fascia alta in grado di soddisfare i palati più esigenti. Non si tratta di un giocattolo, di un entry level, anche se ufficialmente di questo si tratta nel parco prodotti di Mark Levinson. Lo trovate sul sito di Hi-Fi di Prinzio al costo di 11.900 euro. Come vedete il prezzo è barrato, quindi non si tratta dei soldi che dovrete sborsare per portarvelo a casa nel caso in cui vi piacesse. Andate ad ascoltarlo con i vostri diffusori, con i diffusori che vorrete comprare in futuro, perché secondo me ne vale la pena. E perché potrebbe farli esprimere al meglio. Carattere e potenza sicuramente non mancano a questo amplificatore integrato. Nel caso in cui vi conquistasse dite ad Hi-Fi di Prinzio che vi manda audiofilando e in questo caso magari lo sconto sul prezzo di listino potrebbe essere ancora più interessante. Si tratta di un amplificatore bello esteticamente, completo per quanto riguarda la sezione DAC e il parco connessioni. Di costruzione curata e solida e soprattutto con una resa sonora degna di nota. È un prodotto che si inserisce in una fascia di mercato molto popolata. Numerosi brand propongono prodotti molto interessanti con queste caratteristiche e di questa qualità. E molti di questi abbiamo avuto la fortuna di provarli a casa audiofilando. Mark Levinson con questo N5805 sicuramente si è guadagnato il diritto di essere ascoltato e di essere preso in considerazione. Degna di nota anche la sezione Prefono, compatibile sia con testine MM ed MC. Una vera manna dal cielo per gli amanti del disco nero. Direi che vi ho detto tutto e gradirei che i membri della community potessero integrare le mie parole con dei commenti qui sotto. Questi commenti, se costruttivi, potrebbero essere utili a tutti nella scelta della prossima amplificazione. Quando si investono nella propria passione cifre di questo genere, direi che il più piccolo dettaglio potrebbe essere utilissimo nella scelta su dove investire i propri soldi. Quindi invito tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ascoltare questo prodotto di fornire nel dettaglio le proprie impressioni. Per oggi ho finito. Non mi resta che augurarvi buoni ascolti e ciao!